benissimo allora ancora grazie a tutti grazie per essere qua a questa serata appunto dedicata al mental training alle tecniche corpore alle tecniche di rilassamento con laura monza che è qui questa sera con noi proprio per parlare di questi argomenti e di trovare tra di essi dei dei punti d'incontro e la loro applicazione proprio in vari ambiti però prima di diciamo di addentrarci specificatamente negli argomenti che abbiamo detto mi piacerebbe appunto chiedere a laura di farci una sorta di introduzione sugli argomenti appunto trattati sugli oggetti della nostra serata intervista che abbiamo appunto messo in programma questa sera molto volentieri e intanto di nuovo benvenuti a tutti ecco io comincerei per per introdurre i temi di questa sera da un concetto di base che aiuta a comprendere meglio quello che è il mondo e questo concetto di base si chiama essere l'essere umano come l'essere umano non è fatto di compartimenti stani quindi immaginiamoci delle stanze isolate o insonorizzate anche quello che troviamo nell'ambito del benessere mente corpo non è da considerarsi primo privo di legami o di connessioni ecco mi spiego meglio quando parliamo di mental training attività omotoria o tecniche corporee di qualsiasi genere come possono essere il pilates lo yoga l'allenamento funzionale tecniche di rilassamento come il training autogeno e l'ipnosi ci troviamo di fronte a una serie di strumenti di tecniche di discipline che possono interagire interagire meravigliosamente tra loro creando una tale sinergia che ci permette di ottenere dei grandi risultati quindi chiaro che l'operatore o il professionista in questione deve avere una preparazione tale per cui sappia orientarsi all'interno appunto di queste discipline e di queste tecniche per raggiungere poi il miglior risultato capendo soprattutto quando è il momento esatto e giusto in cui una tecnica si inserisca nell'altra o il momento esatto in cui inserire una tecnica nell'altra proprio al fine di creare questa sinergia potenziante che non vada a d'altro canto a dare un sovraccarico quindi una disarmonia con il rischio di creare proprio l'effetto posto negativo dove finisce una tecnica e dove entra l'altra questa potrebbe essere la domanda dove c'è la capacità e la sensibilità dell'operatore di far incontrare proprio le due tecniche quindi in quello spazio comune dove vanno ad intersecarsi rendendo una tecnica letteralmente l'estensione dell'altra quello spazio io lo chiamo osare con competenza è molto importante questo argomento l'osare con competenza perché è un elemento fondamentale nel mental training chi si occupa di queste relazioni d'aiuto sotto vari aspetti perché l'osare vuol dire avere quella curiosità di sconfinare anche un pochettino al di là dei protocolli standardizzati ma con competenza quindi con cognizione di causa è una preparazione sufficiente necessaria per capire anche quale strada giustamente portare avanti e in effetti questo questo lavoro possiamo proprio definire il lavoro del mental trainer dell'operatore di tecniche corporee è un lavoro che ha certe caratteristiche e mi verrebbe proprio da chiedere a laura e che cosa lo ha cosa l'ha portata a scegliere di studiare il mental training di formarsi e anche specializzarsi proprio in queste discipline che si fondano da quanto appunto hai già detto poco fa sull'unione di corpo mente mente corpo proprio un argomento importante da da capire che quella ti ha spinto beh devo dire che ho sempre avuto la percezione e sempre creduto profondamente che mente corpo avessero una una connessione una relazione intima dove diventano proprio un tutt'uno e dove scinderle per me perché impossibile diventava letteralmente un sacrilegio lo definirei proprio un sacrilegio quindi mente corpo 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 e mente per me sono sempre stati in un continuo dialogo un flusso un flusso traboccante di informazioni tutte da andare a rilevare e ad ascoltare e anche a tradurre quando ho capito che questo proprio su me stessa che ascoltando attentamente avendo proprio la capacità di di decifrare queste informazioni grazie probabilmente già anche a una mia predisposizione naturale mi avrebbe portato a migliorare la mia vita e anche ad aiutare soprattutto ad aiutare poi anche gli altri a quel punto ho fatto una scelta ho fatto la scelta di tuffarmi letteralmente a capofitto in quello che io chiamo il mare immenso il mare magno della conoscenza e oltre la conoscenza la consapevolezza che mi hanno portato poi gli studi la formazione e gli approfondimenti e poi le varie tecniche che ho acquisito proprio attraverso gli studi e la formazione in questo mare sento di aver nuotato proprio come ho detto poco fa fin dalla nascita solo che non aveva un nome non aveva un nome preciso e poi quando ho fatto questa scelta di andare a formarmi quindi a studiare a conoscere a specializzarmi e ad aggiornarmi un aggiornamento che è in continuo divenire e credo che l'aggiornamento sia qualcosa di cui abbiamo diritto ma è soprattutto un dovere per quello che facciamo oggi quel mare quel famoso mare per me prezioso ha preso un nome ha una dimensione e ha una posizione ben precisa nella mia vita questo questo è quello che mi ha spinto fondamentalmente a fare quello che faccio e ad essere quello che sono perché per me anche qui c'è una stretta connessione tra quello che sono e quello che faccio sì qua è proprio se voi avete notato molte volte nella storia di ognuno di noi c'è proprio un qualcosa che ci una voce la chiamiamo che che ci spinge verso verso qualcosa questa voce sembra che sia presente dentro ognuno di noi qualcuno forse l'ascolta e la segue altri per altri motivi magari non si sentono di portarla avanti però se proprio questo questo richiamo un po ancestrale sì io lo sentivo quasi mi sentivo quasi immaginato una barchetta in mezzo al mare piena di flutti più o meno grandi rispetto ai momenti della vita e questa cosa questa vocina per me era come un vento come un soffio che mi spingeva in una determinata direzione nonostante le onde cercassero di portarmi altrove a quel punto quel vento è stato più forte e mi ha portato in quella direzione bene allora siccome ci hai parlato di parecchie situazioni di parecchie discipline quindi in mental training le tecniche corporee le tecniche di rilassamento se vuoi approfondire un pochettino proprio parlarci un po' più nei dettagli di queste tecniche di come cosa consistono e come anche giustamente le percepisci certo allora partiamo proprio dal mental training visto che per me è partito un po' tutto da questo metodo di allenamento della mente mental training se dovessimo fare una traduzione letterale è proprio questo allenare la mente e il mental training vede la mente proprio come un muscolo che può essere modellato in funzione di creare letteralmente nuove modalità di approccio alla vita o anche rimodellato nel caso dovessimo andare a lavorare su aspetti della nostra vita che vogliamo aspetti comportamenti atteggiamenti che vogliamo letteralmente ristrutturare perché questi comportamenti magari si sono trasformati in abitudini si sono trasformati in convinzioni che noi reiteriamo lungo il percorso della nostra vita e che ci generano disagio bene questi comportamenti a volte diventano letteralmente dei copioni dei copioni di vita che si ripetono dove noi siamo degli attori e spesso questi copioni queste situazioni disfunzionali che si ripetono nella nostra vita agiscono tramite il nostro subconscio quindi a volte anzi molto spesso siamo attori inconsapevoli proprio perché ribadisco questi copioni, questi atteggiamenti, queste abitudini partono in automatico lanciate letteralmente dal subconscio questi modellamenti e rimodellamenti ovviamente si inseriscono in un allenamento che è importante che sia costante quindi mental training che viene approcciato come approcciamo immaginiamoci proprio una scheda che ci viene data in palestra quindi con l'idea di avere un impegno costante sia nelle azioni che nel corpo come noi andiamo ad allenare o come noi andiamo ad avere certi atteggiamenti importanti nel quotidiano come il lavarci i denti per averli sani curarci della nostra igiene personale per scongiurare quelle che possono essere delle situazioni o andiamo a fare attività motoria per mantenerci in forma bene, allo stesso modo la nostra mente quindi il mental training che va gestito con una componente che si chiama costanza con le tecniche corporee se parliamo di tecniche corporee quindi pilate, sata yoga ho potuto sperimentare e poi a un certo punto anche affinare i benefici che il movimento ha sulle persone nel momento in cui viene unito ad un aspetto mentale e spirituale quindi non abbiamo più solo quello che è il gesto motorio non abbiamo più solo se vogliamo parlare dell'ata yoga la sana la posizione ma abbiamo quella che è la connessione con il nostro corpo e con il nostro sé più profondo quindi come il corpo si muove insieme alle emozioni ecco che le tecniche corporee diventano qualcosa che non è scisso dal nostro spirito dalle nostre emozioni ed è così che io vado a superare quello che è il concetto che ritengo disfunzionale di scissione sempre per parlare di corpo e mente che sono uniti faccio un esempio per esempio scusatemi la ripetizione quando faccio pilates vado ad allenare i muscoli della cosiddetta powerhouse tra cui i muscoli erettori che sono quei muscoli che mi permettono di sorreggermi e sono dei muscoli stabilizzatori bene allo stesso modo mentre alleno il mio corpo e alleno il corpo del mio cliente lo sto allenando anche a trovare una centratura una stabilità in modo che abbia una sensazione di essere meglio sorretto grazie ai muscoli ma anche una maggior centratura e sensazione di sentirsi più stabile anche nella vita quindi è un po' come se volessi utilizzare il principio dalla mente al corpo dal corpo alla mente assolutamente non tocco più un aspetto solo corporeo ma anche mentale proprio già durante l'attività motoria ripeto dove io vado ad allenare i muscoli erettori e stabilizzatori sottolineando al mio cliente che in quel momento noi stiamo allenando anche la nostra capacità di sorreggerci nella vita e di trovare la centratura nel momento del bisogno attraverso anche il respiro sappiamo bene che nel Pilates importante è anche la modalità respiratoria dove noi troviamo il controllo quindi il controllo dei muscoli degli addominali ma a quel punto diventa un concetto proprio trasversale dove io imparo anche ad allenare la mia capacità di controllo nella vita per quanto riguarda invece il training autogeno guidato come tecnica di rilassamento che non è solo fine a se stessa quindi non è solo finalizzata al rilassamento ma è anche collegata a un controllo proprio di miglior gestione delle emozioni proprio nella vita di tutti i giorni perché abbiamo la possibilità proprio di entrare attraverso il training autogeno sempre in connessione con quella parte più profonda di noi che facciamo fatica a contattare nel quotidiano perché siamo presi da da mille cose e sulla scia di questi aspetti del training autogeno che io ritengo delle vere e proprie qualità arrivo a parlare dell'ipnosi per me l'ipnosi è un mondo che ha su di me personalmente un fascino incredibile e senza tempo la sento una tecnica che cresce con me con le esperienze che faccio con i vari clienti che si aprono che si aprono fiduciosi a questa tecnica ci tengo a specificare a dare una specifica maggiore su che cos'è l'ipnosi l'ipnosi è uno stato alternativo e non alterato di coscienza che permette l'inversione dell'iceberg che cos'è l'iceberg diciamo che è una è un'immagine che io do non solo io della quale mi avvalgo per spiegare come funziona per l'appunto l'ipnosi quindi immaginiamoci questo iceberg abbiamo la parte più esposta quella che esce dalla superficie del mare e la parte invece più sommersa la parte esposta rappresenta il nostro conscio la nostra parte conscia la nostra parte razionale la parte sommersa invece rappresenta proprio il nostro subconscio quella parte di noi che esploriamo più con fatica proprio perché sta sotto bisogna immergersi esatto quindi immaginiamoci conscio subconscio che cosa fa l'ipnosi l'ipnosi fa questo quindi porta il subconscio in una posizione che privilegia diciamo l'operatore perché gli permette di accedere più facilmente permette sia all'operatore che al cliente di accedere più facilmente per l'appunto in quel territorio così in ombra che è il subconscio bene a quel punto abbiamo la possibilità di entrare in contatto con delle parti magari della nostra vita che abbiamo rimosso che abbiamo dimenticato che vorremmo con le quali vorremmo entrare in contatto per capire meglio alcuni aspetti appunto della nostra vita quelle parti che ci creano disagio capire da dove arrivano ecco che a quel punto l'ipnosi diventa letteralmente un'esperienza terapeutica ecco per me e per tutti coloro che hanno scelto di formarsi nell'ambito di ipnosi attraverso la mental trainer academy che getta le basi e attraverso poi la neonata ipno academy che vale letteralmente a formare degli ipnotisti professionisti per noi è importante proprio divulgare questo questo concetto dell'ipnosi quella che è la sua vera natura sfatando tutti quei falsi miti che purtroppo ci siamo portati dietro grazie o o o per non esattamente grazie non si possono non si può esattamente ringraziare colui che nel nel caso specifico ha un nome si chiama Giucas Casella non so se ve lo ricordate che purtroppo ha distorto un po' il concetto dell'ipnosi perché ci ha fatto conoscere qualcosa che appunto è stato impropriamente chiamato ipnosi ma che in realtà potremmo definire una forte suggestione illusoria da palcoscenico con finalità di intrattenimento ecco questo è quello che ci è arrivato ma che in realtà non è la vera natura di questa tecnica meravigliosa l'ipnosi è andare a lavorare proprio sul nostro subconscio che viene raggiunto attraverso uno stato di profondo rilassamento ecco che qui per me si incontrano le due tecniche il il training autogeno guidato che favorisce il rilassamento profondo e nel momento in cui io vado ad approfondire ulteriormente questo rilassamento si apre la finestra ipnotica e io entro a piede teso con il la il massimo della competenza che posso con l'ipnosi questo questo è un po' un'idea di come come per me funziona questo incontro delle delle varie tecniche delle varie tecniche sì tenete presente che il mental training è un approccio multimodale quindi con multimodale intendiamo un approccio che si avvale di numerosissime teorie metodologie spunti di riflessione e approcci psicologici ovviamente ognuno di noi avrà una sua preferenza in questo caso giustamente Laura ha scelto quello che sente più dentro di sé e quindi ha parlato di ipnosi di training autogeno di tecniche corporee specificatamente in questo caso pilates yoga ma anche altre poi ognuno di noi giustamente può andare a sentire quello che più nel mental training sente dentro di sé germogliare sì assolutamente anche se poi per me è fondamentale tenere aperto diciamo l'ascolto verso me come professionista e quelle che sono quello che è il mio il mio parco di strumenti a disposizione in continuo di venire perché come dicevo inizialmente l'aggiornamento è un diritto ma è assolutamente anche un dovere ma tenere aperto quello che è l'ascolto verso la persona che ho di fronte che per me è tutt'altro che un numero è tutt'altro che un soggetto sul quale poter applicare qualsiasi cosa sia magari di mio gusto o gradimento perché non è così per me è una persona con la sua storia con le sue esigenze anche ella o anche egli con le sue predisposizioni ed è lì che non è un navigare a vista ma è un aggiustare la rotta rispetto proprio a quello che alle informazioni che noi andiamo a rilevare del nostro cliente quello è assolutamente fondamentale bene guarda mentre stiamo appunto chiacchierando abbiamo una prima domanda da parte delle persone qui presenti in online che ci chiede come in che modo il training del mental training la mental training academy come nostra scuola di formazione può aiutare un operatore olistico ovviamente nell'ambito del suo lavoro quindi come può secondo te un operatore olistico avere un vantaggio magari da uno studio del mental training o di nel frequentare una vera e propria scuola di formazione come la nostra mental trainer academy allora la mia risposta è dal momento in cui un operatore olistico e non solo entra in contatto con il pubblico con le persone con l'essere umano riuscire a capire chi ha di fronte riuscire ad avere una comunicazione efficace che porta l'operatore a comprendere meglio la persona con le sue esigenze che vanno oltre quello che è un aspetto fisico quindi di cure corporee è uno strumento importantissimo e potentissimo e a quel punto il mental training in questo senso nell'ambito nell'ambito della capacità di entrare in connessione con l'altro con delle tecniche di comunicazione efficace con le domande giuste permette di di amplificare il risultato che già l'operatore avrebbe attraverso le sue tecniche e di ampliare le sue risorse i suoi strumenti caspiterina altro che se in questo caso è utile e tra l'altro non solo per un operatore olistico io il mental training lo consiglierei a chiunque anche al panettiere anche a chi è in un negozio e vende il pane chiunque a tutti a tutti noi perché entra a pie spinto in tutto quello che si chiama relazione eh sì nella relazione il mental training è un ingrediente fondamentale come la farina per fare la torta diciamo è comprendere l'altro nel modo più efficace assolutamente e aiutarlo altrettanto in modo efficace e poi abbiamo una diciamo un'altra bella domanda ma anche affermazione dove Paolo ci chiede quindi l'ipnosi visto che Laura ha parlato di ipnosi diventa necessaria per orientare la persona verso la scoperta delle sue aree iceberg sommersi usando proprio giustamente l'esempio di Laura dove usando e parafrasando il grande Freud c'è l'es l'io e il superio queste tre istanze potenti dentro di noi che ci permettono di andare a sollecitare risorse vive ma magari sconosciute quindi l'idea di Paolo è magari abbiamo dentro di noi qualcosa ma pur avendolo non riusciamo a vederlo proprio forse perché non ci siamo immersi e l'ipnosi può essere quindi la possibilità di quello che ha visto e ha descritto Paolo sorrido e sono emozionata al contempo perché se mi ritorni sopra grazie certo perché ha descritto meravigliosamente proprio quello che io stessa ritengo essere l'ipnosi quindi sì Paolo ti confermo che sì necessaria o assolutamente consigliabile direi così per orientare la persona verso la scoperta di quelle aree così sommerse così poco esplorate perché magari ci fanno paura perché magari le temiamo e allora dove io vedo il mental training o il mental trainer lo dico spesso no come la torcia la torcia che ci porta in cantina e che arrivati in cantina punta la luce su quelle parti che abbiamo deciso di lasciare lì per lungo tempo che si sono impolverate che crediamo che non ci siano più utili o al contrario come dicevo prima magari temiamo ci spaventano ecco con l'ipnosi immaginate di andare ancora più giù immaginate di trovarvi in cantina e di cominciare a scavare sotto al pavimento della cantina per riportare alla luce letteralmente dei tesori perché dove noi pensiamo che quelle parti che abbiamo voluto tenere nascoste così nel profondo per paura di affrontarle e pensiamo e pensiamo che siano effettivamente qualcosa da lasciare lì da non da non andare a far riemergere perché chissà magari potrebbero crearci veramente dei grandi problemi con l'ipnosi nel momento in cui abbiamo quella curiosità e quel coraggio potremmo scoprire che sono gli elementi preziosi per poter generare il cambiamento di cui abbiamo bisogno quindi da elemento disagiante e spaventoso diventano a un certo punto proprio la chiave di volta però chiaramente dobbiamo avere il famoso la famosa forza e il coraggio per per arrivare fino a lì e l'operatore sicuramente ci può aiutare certo bene visto che abbiamo parlato appunto di queste di mental training di ipnosi di tecniche corporee tutto questo grande mondo che Laura ci sta illustrando una domanda che mi piace fare in questo ambito è proprio quella dove chiedere all'operatore in questo caso Laura quali sono i punti di connessione e di incontro fra tutte queste tecniche perché sono state già spiegate piuttosto bene mental training cos'è tecniche corporee ipnosi ma come riusciamo a farle a connetterle e a trovare appunto delle situazioni dei nessi fra di loro per dare la possibilità di massima furibilità ed efficacia certo allora beh con il mental training sicuramente nel momento in cui noi andiamo a muovere il nostro corpo attraverso le tecniche corporee andiamo a muovere insieme anche la nostra mente quindi la mente si muove con noi e si muove con il nostro corpo con le sfide anche date per esempio da una gara piuttosto che semplicemente quando facciamo attività motoria per mantenerci in forma o quando lo facciamo per raggiungere degli obiettivi o delle performance migliori sempre a livello sportivo allenando il corpo alleniamo la mente alleniamo la mente a resistere a non abbattersi anche quando ci sembra difficile e ci sentiamo affaticati così nel nel gesto sportivo come nel quotidiano quindi mentre si allena il corpo scopriamo come alcune situazioni diciamo di difficoltà diventano trasducibili sul piano del quotidiano quindi per me questo mi permette di intervenire con il mental training letteralmente durante l'allenamento apportando quindi dei benefici sia nell'ambito sportivo che nell'ambito della vita mentre pratichiamo lo yoga per esempio che prevede insieme proprio a un aspetto di movimento dato dalle asana che sono le posizioni tipiche dell'ata yoga piuttosto che il il respiro che utilizziamo nello yoga un respiro circolare connesso abbiamo un aspetto favorente verso quello che è l'insight quindi ancora una volta con la connessione con la parte più profonda di noi ecco che a questo punto attraverso lo yoga entriamo anche in un aspetto sempre di rilassamento e con il rilassamento diciamo che io riesco a a creare una sinergia con con quella che è la tecnica del training autogeno perché a quel punto inserisco anche una visualizzazione un aspetto di visualizzazione mentre la persona entra nella asana e allo stesso modo per me è così quasi naturale quella che è la connessione tra il training autogeno e l'ipnosi dove il training autogeno con il suo aspetto di rilassamento mi apre la porta su quella che è la finestra ipnotica quindi nel momento in cui io porto il mio cliente ad un rilassamento profondo per me equivale all'apertura di una finestra ipnotica e quindi posso andare a creare letteralmente comandi ancoraggi ristrutturazioni ecco questo è un po' il concetto di come io vado a collegare le varie metodologie e i metodi sì sentendo appunto la descrizione di Laura mi viene in mente molto l'approccio appunto che ha la psicologia dello sport proprio anche nei confronti degli atleti dove ovviamente un atleta deve allenarsi con grande intensità nel gesto tecnico ma parallelamente gli si insegna a gestire l'ansia da prestazione gli si insegna ad entrare in contatto con le proprie capacità più profondi gli si insegna a visualizzare con le tecniche dell'imagery i gesti tecnici a rilassarsi pre-gara a recuperare post-gara con le tecniche mentali quindi c'è una traslazione a mio avviso da quello appunto che Laura ci sta dicendo nella vita di tutti i giorni perché io ho sempre visto lo sport come una metafora quasi della vita dove ci sono molte applicazioni che lo sport abbiamo anche nella vita e viceversa e quindi ecco come probabilmente il mental training il training autogeno il tecnico corporee hanno la traslazione non per forza nell'atleta ma per tutti proprio per chiunque anche se non siamo olimpici perché sono le belli atleti d'elite che hanno questo team alle spalle che ha tutte queste capacità ma per persone tra virgolette passate nel termine normali il mental training invece arriva proprio per tutti quindi è un qualcosa che consente a chiunque senza diventare un atleta per forza importante di avere questo beneficio assolutamente sì ed ecco perché per me tutto questo arriva con grande naturalezza perché sento proprio questa naturale trasversalità di questi concetti di queste tecniche e quindi davvero al di là di quello che poi è la preparazione quella che è la formazione e l'aggiornamento c'è proprio un richiamo un richiamo naturale da parte di una tecnica verso l'altra e viceversa proprio come se comunicassero proprio come dicevo la la comunicazione la bidirezionalità tra in questo caso una tecnica e l'altra sì sì a questo punto mi viene da chiederti come come hai scoperto proprio che queste tecniche insieme potevano funzionare e funzionare anche forse da quello che ho capito forse quasi meglio che non prese singolarmente sì sì nonostante che anche se sicuramente abbiano la loro grande efficacia però mi sembra di capire che la la sinergia cioè l'applicazione di tutte queste tecniche abbia quasi ancora più impatto e come come si è arrivata insomma a questa deduzione sì ecco prima proprio di rispondere alla risposta alla domanda principale sì ti confermo che insieme amplificano ma per me è importante che lo riescano a fare riescono ad entrare in sinergia sulla base comunque di un rispetto reciproco quindi immaginate che queste tecniche quando si uniscono in sinergia lo fanno con rispetto proprio come una coppia no quando una coppia è funzionale quando una coppia va bene va va a gonfie vele quando riesce ad unirsi a entrare in sinergia pur rispettando la propria individualità anzi proprio trova forza in questo riconoscendo il potenziale reciproco però poi andando ad unirlo senza confondersi ecco io ho capito questo ho scoperto che potevano funzionare in questa modalità facendo esperienza l'indispensabile immancabile impareggiabile esperienza sul campo chiaramente non inventandomi lo specifichiamo quindi ritorno al famoso osare con competenza però è con l'esperienza quindi testando e vedendo con i miei occhi che quello che facevo funzionava che avevo una risposta positiva dalle persone o clienti come come li vogliamo chiamare la famosa diciamo conferma nella nella pratica certo e la nostra capacità di osservare il più oggettivamente possibile per non farci prendere magari da una visione troppo di parte sì ripeto è fondamentale questo fare esperienza rimanendo sempre in un ascolto attento e in una modalità osservativa che è prerogativa del mental trainer per capire quando anche se noi crediamo fortemente in quella tecnica o in quell'approccio magari con quella persona non funziona e quindi lì è fondamentale non incaparbirsi ecco perché a quel punto per me quello è sconfinare in malo modo puoi farci proprio degli esempi specifici pratici dove magari ci fai comprendere più nello specifico proprio questo tu unire queste tecniche con qualche magari cliente con qualche situazione proprio che hai vissuto personalmente sì sì molto volentieri allora se parliamo dello yoga per esempio mi capita magari di portare la persona ad eseguire ad entrare nell'asana del guerriero dove porto dove chiedo di aprire le braccia di portarle in allineamento con le spalle di guardare verso la mano di guardare lontano di guardare verso l'orizzonte verso quello che sono i suoi obiettivi con l'atteggiamento del guerriero quindi in quel caso io inserisco una tecnica di imagery di visualizzazione e con la voce agevolo anche un aspetto di insight di rilassamento ecco questo è un esempio nell'ambito dello yoga piuttosto che quando sto facendo un circuito cardiotone e ho la persona la cliente che arriva dopo una lunga giornata di lavoro e mi dice ma sei sicura oggi che mi vuoi far fare un circuito mi sembra una montagna come quella che io vedo alla mattina quando mi sveglio e penso di dover affrontare la giornata bene a quel punto la cliente mi sta fornendo un'informazione importantissima mi sta dando un messaggio importantissimo e utilissimo perché quando lei avrà terminato il suo circuito perché io so che lei ce la può fare con i suoi tempi nel rispetto di quella che è la sua energia della giornata io le dirò hai visto che ce l'hai fatta hai visto che cosa ti succede adesso in questo momento durante questo circuito tu stai avendo la stessa sensazione che hai e che mi riporti essere uno dei tuoi disagi principali nella vita di quando ti svegli e ti sembra di avere davanti a te è una montagna insormontabile da scalare bene allora io adesso ti invito a tradurre e a traslare questo momento anche domani mattina nella vita nel quotidiano perché tu oggi hai dimostrato a te stessa che sei capace di arrivare in cima a quella montagna che sei sufficientemente forte e sufficientemente capace di farlo e io ti aiuterò per allenarti e rinforzare le gambe rinforzare le braccia ma rinforzare anche la mente affinché tu possa diventare tanto brava nel circuito quanto nell'affrontare quel circuito che è il nostro quotidiano quel percorso che è il nostro quotidiano quindi questo potrebbe essere un altro esempio oppure quando magari termino una seduta di training autogeno guidato e la persona nel momento in cui mi dà una restituzione di quello che è stato il suo viaggio il suo vissuto a quel punto anche lì gli agganci per diciamo dare una restituzione da parte mia a livello di mental training di mettere in atto quello che è il mental training è un attimo certo perché comunque quando magari il cliente ci dà dei feedback delle informazioni di ritorno il mental training il mental trainer ovviamente con competenze di varia natura può anche intervenire interpretare intervenire dando degli spunti di riflessione esatto esatto quindi questo è il valore aggiunto del mental training sicuramente in ogni in ogni campo in ogni lavoro dove chi sa ascoltare e sa interpretare anche i messaggi può dare poi a sua volta degli spunti di riflessione importanti per crescere come andare ad intessere proprio e come si diventa tessitrici e tessitori no abbiamo tanti fili a disposizione e andiamo a intrecciarli ribadisco ancora una volta un po' questo concetto di connessione andiamo a intrecciarli però con criterio mentre appunto chiacchieravamo piacevolmente dal mio punto di vista è arrivata una domanda molto particolare molto anche interessante dove ci viene chiesto anzi ci viene comunicato con il mio lavoro di attore mi sono spesso scontrato con la mia ansia da prestazione quando ho lavorato solo contrariamente recitando in gruppo con altri penso colleghi non è mai successo e ci chiede come mai è una domandona questa la mental trainer qua presente quindi ma allora diciamo che mi hai dato delle informazioni sicuramente interessanti che mi possono aiutare a darti una risposta che ovviamente potrebbe essere approfondita e ampliata nel momento in cui si potesse avere poi un colloquio un po' più profondo ecco però così dalla domanda che mi fai mi verrebbe da dire che quando lavori solo sei a diretto confronto con te stesso quando lavori da solo ti confronti sei costretto fra virgolette a confrontarti con te stesso e magari è proprio questo che ti porta ad avere disagio perché magari ci sono degli aspetti nell'ambito di quella che è il tuo riconoscerti bravo a sufficienza come attore riconoscere la tua capacità di arrivare agli altri è tutto in mano tua è tutta completa responsabilità tua unicamente tua e questo probabilmente ti crea ansia perché senti il peso della responsabilità tutto solo e unicamente su di te nel momento in cui reciti in gruppo probabilmente quello che scatta dentro di te la tua dinamica in questo caso è posso condividere con altri questa responsabilità e quindi di conseguenza senti di meno l'ansia ecco questo è un'idea che io mi faccio così su due piedi su quella che potrebbe essere una risposta a questa tua ansia quindi il peso della responsabilità completamente su di te legato al successo o l'insuccesso dello spettacolo e a quel punto caspiterina l'ansia va di pari livello e qui abbiamo visto proprio senza neanche volerlo non è una cosa che è stata organizzata a tavolino come interviene il mental trainer e il mental training nel momento in cui giustamente una persona ha un percorso di formazione in grado di dare una chiave di lettura come ha dato giustamente Laura in questo momento senza la presunzione di avere ragione e anche affermando che ci mancano alcuni ingredienti e che questa risposta rimane un po' vaga proprio perché nei confronti della persona specificatamente che ha fatto questa domanda ci sarebbe da indagare poi un po' più profondamente altri aspetti che non possono emergere da questi piccoli spunti di riflessione no chiaro che questo è un primo approccio dal quale partire è lo start point quindi da qui rispetto a quello che è il diciamo il feedback della persona si innesca il colloquio il colloquio con il cliente e da lì parte proprio tutta tutta la macchina tutto l'ingranaggio con tutto quello che ho descritto precedentemente assolutamente sì tenendo presente poi chi nella fattispecie la persona che ha fatto questa domanda sa benissimo che il lavoro dell'attore è anche molto un lavoro corporeo oltre che un lavoro ovviamente di gestione dell'ansia e quindi vedete che anche in questo caso il connubio tra corpo e mente è molto importante tanto è vero che molte tecniche teatrali hanno dei lavori proprio corporei di respirazione delle dinamiche di gruppo che in teatro non vengono magari definiti mental training ma vengono definite tecniche di recitazione ma di base applicano in modalità eccelsa proprio ciò che il mental training propone magari al di fuori del palcoscenico in altri contesti quindi c'è una traslazione poi molto interessante anche in questo ambito certo in quest'ambito o anche nell'ambito della danza o di tutte quelle che sono quelle arti rappresentative dove noi andiamo con il nostro corpo o con la nostra voce se parliamo appunto della recitazione o del canto o nel suonare uno strumento comunque c'è una rappresentazione corporea e una relazione tra chi balla canta recita e suona e il pubblico e quando parliamo di relazione signori siamo sempre lì proseguendo un pochettino anche con l'intervista proprio specificatamente nata per condividere questi argomenti è ovvio che è anche un momento in cui mi viene da chiederti quali sono i risultati che senti di aver ottenuto fino ad oggi ovviamente da questa tua modalità di approccio e di lavoro che ci hai spiegato fino adesso insomma quali sono proprio i risultati che senti che hai ottenuto e che sei riuscita a trasmettere ai tuoi clienti allora crescita personale crescita professionale possibilità di dare ai miei clienti un valore aggiunto avendo la possibilità proprio di fornirgli degli strumenti potenziati super integrati per come come li sento io quindi come se come se riuscissi a fornire ai miei clienti proprio dei super integratori no che possono anche in alcuni casi favorire l'accelerazione del processo di soluzione del problema che li ha portati poi a me questo è quello che sento essere i risultati che ho ottenuto più quelli che ancora non so e che sono sicura che arriveranno sì mi è piaciuto molto questo esempio degli integratori perché in effetti vabbè a parte che anche sugli integratori ci sono dei detrattori dice che qualcuno dice che non servono a niente come ci sono dei detrattori anche nel mental training c'è gente che dice ma il mental training sono tutte balle tutta fuffa e siccome in questo campo ci lavoro da 20 anni ne ho sentite di tutti i colori e ho rubostito le spalle facendole ogni tanto scrollare da queste persone però gli integratori in effetti se partiamo dal presupposto di avere una base ovviamente scientifica che possa comunque evidenziare dei miglioramenti è proprio così come noi integriamo con integratori alimentari di varia natura erbe vitamine sali minerali eccetera eccetera per stare meglio il mental training con tutte le sue tecniche davvero è un'integrazione a quello che è lo stare la possibilità di stare di stare meglio ecco sulla scena di quello che stai dicendo ne approfitto per dire che andare da un mental trainer non vuol dire andare perché ho un problema tant'è che da un mental trainer noi possiamo andare anche quando stiamo bene ma vogliamo integrare questo star bene vogliamo stare ancora meglio e poi qui mi collego a quello che dicevi prima parlavi dei detrattori o dei fan degli integratori abbiamo sempre chi apprezza e chi non apprezza beh tu stesso mi insegni che per chi non crede anche un miracolo non è sufficiente e per chi crede non serve nemmeno il miracolo ecco eh sì è proprio molte volte è anche lì una grande differenza data dalla ancora una volta dalla mente da quello che noi pensiamo dalle immagini che ci siamo fatti dalle idee che abbiamo assorbito o abbiamo costruito e tra l'altro nulla è a caso nella nostra esistenza o in base alle esperienze nostre o acquisite da altri quindi ognuno di noi ha il suo costrutto mentale e la sua struttura psichica che certe volte abbiamo facciamo l'errore di pensare che sia la risposta universale mentre invece è la nostra risposta rispettabile ma è la nostra risposta e mi viene da chiederti il mental training e queste tecniche che appunto hai ben descritto ti è capitato qualche volta anche magari di utilizzarle senza esplicitarle nel senso tu hai detto da me vengono giustamente clienti a ricercare benessere non sempre necessario che vengano quando stanno male magari vengono quando hanno già qualcosa che va bene vogliono stare ancora meglio ma è successo magari che una persona venisse da te con solo proprio la richiesta specifica di tonificare visto che ti occupi di tecniche corporee famose gambe glutee addominali e in quella richiesta magari tu hai applicato senza esplicitarlo direttamente delle tecniche di mental training a questi clienti sì praticamente quasi sempre ecco nel senso che non era scontato però volevo sentirlo perché quando io inizialmente parlavo che l'essere umano non è fatto a compartimenti stagni in quella casistica ci casco anch'io nel senso che io non sono la mental trainer l'ipnotista l'esperta in tecniche corporee io sono questo altro tutto insieme all inclusive quindi per me è impossibile andare a scindermi mi viene naturale è diventata quasi la cosiddetta deformazione professionale o io direi formazione professionale perché non mi sento deformata in questo senso anzi vado ad aggiungere un'altra cosa che non mi succede solo in studio ma mi succede magari anche banalmente se sono a prendere un caffè con con una persona dove senza senza cioè gustandomi comunque il mio caffè assolutamente chiacchierando piacevolmente comunque con la persona e stando attenta a a quello che ci diciamo in modo coinvolto e tutto quanto però comunque in alcuni casi mi viene da notare delle cose certo con con l'occhio da mental trainer e magari qualche volta lancio anche no uno spunto con i dovuti modi perché chiaramente in quel caso io non mi viene non mi è stato richiesto la prestazione no e quindi lo faccio giustamente stando nei confini certo infatti mi viene da condividere questo quando molte volte ci fanno domande anche sulla nostra scuola di mental training academy che sapete sono un anno di studi sono dieci fine settimana insomma sono molte ore più un tirocino finale una discussione di tesi finale eccetera ci chiedono come possono poi utilizzarlo questo mental training se non vogliono essere dei mental trainer proprio specificatamente identificati sono persone che magari non so lavorano in aziende lavorano come manager lavorano come impiegati hanno dei ruoli di vario tipo nell'ambito lavorativo e la risposta è molto semplice il mental training può essere applicato da chiunque in ogni ambito per migliorare le relazioni migliorare la qualità lavorativa migliorare la prestazione lavorativa e migliorare la consapevolezza individuale quindi non è necessario acquisire un titolo di mental trainer per poi professare la professione di mental trainer si può arrivare ad acquisire il titolo di mental trainer le competenze di mental trainer ed applicarle nella vita senza necessariamente ripeto diventare un professionista specificatamente nel settore infatti come noi ci teniamo spesso a dire quello che è il percorso della mental trainer academy è un due in uno un due in uno perché la mental trainer academy forma futuri mental trainer e mental coach professionisti ma per poterlo diventare devono fare prima di tutto su di sé l'esperienza del percorso di crescita personale quindi se alla fine di questo percorso non si vuole come dicevi prima applicare non si vuole entrare nell'ambito proprio del mental trainer e del mental training ma si è fatto comunque un percorso di crescita personale che ci porta ad essere migliori assolutamente sì bene io ancora vorrei chiederti se c'è qualcosa che ti senti di dire a chi ci sta ascoltando chi si è collegato questa sera di ulteriore oltre a quello che abbiamo già condiviso e che abbiamo un po' verbalizzato sì mi sento di dire smettete di scindere smettete di scindervi smettiamo di scinderci cominciamo a pensare di investire non più solo in termini di cose materiali di case vestiti cellulari vacanze cominciamo a investire anche in termini di crescita personale e di salute psicofisica perché se dopo diciamo questa ora passata insieme dove ho cercato di trasmettervi quello in cui credo non vi è ancora chiaro parte parte tutto da lì parte dalla nostra crescita personale da quanto siamo disposti ad aprirci a quella possibilità che si chiama cambiamento e quando dico che parte tutto da lì tutto l'assoluto per me è più che voluto per me è doveroso quindi questo è quello che mi sento di dire tanto quanto investiamo in oggetti che pensiamo possano cambiarci magari se non la vita il quotidiano perché in quel momento ci sembra che quell'orologio ci possa far felici quella vacanza ci possa cambiare due settimane tre settimane della nostra vita ecco allora io vi dico che nel momento in cui decidete di crescere investite in qualcosa di più molto più importante bene quindi niente abbiamo potuto in questa ora di chiacchierata esaminare un po' questo mondo del mental training delle tecniche corporee delle tecniche mentali del rilassamento abbiamo anche accennato un po' all'ipnosi agli effetti positivi di questa sinergia della loro spendibilità tra virgolette in tantissimi contesti quindi se avete desiderio di fare qualche domanda anche in diretta oltre che in chat in questa ultima parte di serata siamo piacevolmente a disposizione Laura ovviamente che è l'ospite di questa sera è principalmente lei a disposizione per rispondere a vostre curiosità domande o se avete anche voi magari da aggiungere qualcosa a quanto è stato detto con le vostre esperienze con le vostre proprio soggettività personali siamo piacevolmente a disposizione ancora per qualche per qualche minuto quindi lasciamo a voi se ci sono degli interventi per andare appunto a completare o concludere la nostra serata io intanto vi ringrazio davvero per essere ripeto stati con noi per essere presenti in un momento della giornata che è difficile un po' per tutti e quindi mi sento davvero grata dell'ascolto e anche delle domande e delle osservazioni che avete fatto che sono sono state di grande stimolo per me bene allora noi siamo sempre a disposizione avete i nostri contatti sul sito della Mental Terrain Academy i nostri contatti su Facebook cellulari e mail se doveste avere qualche esigenza qualche desiderio di approfondimento siamo disponibili lo facciamo regolarmente a titolo ovviamente gratuito nel senso che noi mettiamo a disposizione le nostre competenze per quanto ovviamente è la disponibilità di una di un contesto mail sapete anche che la nostra scuola ovviamente è presente sempre durante tutto l'anno con moduli ogni mese di formazione che potrete scegliere di frequentare singolarmente o iscrivervi anche il percorso intero che prevede appunto dieci fine settimana sapendo appunto che le opzioni che avrete da una formazione nel mental training sono ripeto multimodali e con una veramente trasferibilità in tantissimi contesti in primis secondo me Laura per noi stessi e ovviamente in parallelo per tutto quello che ci sta intorno creando così dal nostro punto di vista una rete di relazioni ricca e positiva ricordiamoci che prima di arrivare agli altri dobbiamo arrivare a noi anche a quelle parti di noi che ci piacciono poco o che ci fanno paura quindi questo è uno dei concetti fondamentali bene allora vi ringraziamo ancora e concludiamo qua la nostra serata vi inviteremo a breve per prossimi appuntamenti abbiamo in programma fra poco un webinar sempre gratuito con un carissimo amico e a mio avviso anche ottimo professionista il dottor Davide Trespidi che tratterà anche lui un argomento molto interessante a brevissimo vi faremo avere tutte le informazioni e se avrete il piacere di partecipare sarà un nostro piacere ritrovarvi per un'altra serata insieme anche Davide docente della Mental Trainer Academy e quindi grazie a tutti buonanotte buona continuazione soprattutto come dire buona vita grazie a tutti